Il carrello robot preleva i pezzi da un ipotetico magazzino e li consegna a un altro robot che li deve assemblare con altri pezzi. La stampante 3D realizza prototipi di oggetti di uso comune o di ingranaggi di macchine complesse. Siamo nei laboratori dell'Istituto Tecnico Pininfarina di Moncalieri, una scuola che è un punto di riferimento nella cintura sud di Torino per la formazione in settori come la meccatronica e la robotica. È il giorno dell'inaugurazione del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità che vede collaborare il Pininfarina, il Mondo delle Imprese e il Politecnico che un giorno accoglierà molti di quegli studenti indirizzandoli ad un percorso che abbina lo studio al lavoro. Non è un caso se all'inaugurazione del laboratorio partecipano il rettore del Politecnico Guido Saracco, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e del Ministero dell'Istruzione le autorità cittadine e regionali e la consigliera metropolitana delegata all'istruzione, al sistema educativo e all'orientamento Barbara Azzarà. Il laboratorio è nato grazie a un finanziamento del Ministero e al cofinanziamento di istituzioni e imprese pubbliche e private che hanno messo insieme circa 800.000 euro, dando vita a una struttura aperta a studenti, docenti, aziende e cittadini, che pone la scuola in stretto rapporto con la nuova filiera della formazione, di cui fanno parte istituzioni locali pubbliche e private, università, centri di ricerca e imprese, puntando sulla mecatronica, la ricerca, l'elettronica digitale, l'automazione, lo sviluppo delle ICT e della fabbricazione digitale. Nel laboratorio si impara facendo, combinando formazione disciplinare, ricerca e sperimentazione in laboratorio, esperienza sul campo, imprenditorialità e sviluppo teorico e pratico di idee innovative. Per fare sinergia e utilizzare uno spazio, che è uno spazio altamente qualificato, per fare attività di sperimentazione, ricerca, formazione del personale, formazione degli studenti, in un'ottica di collaborazione aperta al territorio, il territorio in senso lato. Questo sarà uno spazio che potrà essere utilizzato, come giustamente ha detto lei, più che dagli istituti tecnici, dal mondo della scuola. Partiamo dai ragazzi, dai bimbi della scuola primaria per un approccio all'educazione scientifico-tecnica per proseguire e arrivare fino al mondo accademico, ma dicevo aperto il territorio proprio perché anche i cittadini potranno utilizzare questo spazio attraverso una possibilità di prenotazione. Sarà uno spazio aperto alle aziende, le aziende potranno venire in laboratorio per fare attività, dicevo, di ricerca, per fare piccole prototipazioni, per fare piccole produzioni, per formare il proprio personale. Quindi uno spazio, direi, che agisce a 360 gradi.